Mentre squilla il telefono, grattandosi la barba, Miran tiene stretta fra le mani quella videocassetta con suscritta la data. 15 marzo 94 e sotto a pennarello soltanto The King. Mentre squilla il telefono, in questa tarda mattinata di Mogadiscio, mi sto ancora domandando quali saranno le reazioni alla messa in onda prima o poi dell'intervista. Il telefono squilla, rispondo io, alzo la cornetta, una voce mi parla, in italiano. Domando subito, voglio dire ora, e la risposta dall'altra parte è un sì, certo, immediatamente, ora. Mentre scendiamo le scale di corsa e Miran mi chiede chi è che ci aspetta, gli dico soltanto italiani. L'autista mette in moto, dove ci porta? Quartiere Monopolio, io lo so dove, non è lontano, la zona italiana di Mogadiscio. Un'automobile in fondo alla strada sta parcheggiata in modo strano, diversa da tutte, col muso in fuori, come pronta a partire. A un tratto lo vedo, si muove lentamente, poi sterza, viene in mezzo alla strada, di traverso, orizzontale, ci costringe a fermarci. Per evitarla, l'autista inchioda, sgomma, sbatto la testa, Miran grida, la radio suona, ci fermiamo. Ci hanno fermati, fermati, qui si ferma. È il giorno 20, mese di marzo, anno 1994. Sul mio orologio, le 13.04. Sul mio orologio, le 13.04. Sul mio orologio, le 13.04.